ciao ciao c'è qualcuno come state intanto io mi posiziono qualcuno arriverà e poi naturalmente lasciamo il video sul mio profilo facebook allora quando non faccio una diretta da un po di settimane perché oltre ho avuto un mucchio di roba da fare oltre all'influenza si accumulano veramente tantissime e pazzesco cioè io ho vissuto un periodo come nel marzo 2020 di isolamento di un po di eremitaggio eppure pur stando fermi si si devo dire si accumulano un mucchio di esperienze un mucchio di viaggi interiori un mucchio di prese di coscienza un sacco di intuizioni di idee nuove e di voglia di condividere naturalmente in parte alcune mie esternazioni vi sono già arrivati tramite i post no di questo periodo a cui in parte mi rifarò e intanto io sono andata a pescarvi un articolo del bosco femmina che ho anche ricondiviso ieri postato già da tempo che si chiama il guerriero interiore nella pratica il guerriero interiore è un archetipo e mi riallacerò oggi adesso questa è solo la prefazione della diretta mentre arrivate oggi mi allaccerò al tema del guerriero interiore nel parlare di qualcosa di molto più concreto di molto più vicino a noi perché lo viviamo nel quotidiano che è la cosiddetta violenza di genere e il dibattito infinito infinito che è quello che sta prendendo piede forse di più nell'opinione pubblica quasi ai livelli di quando si parlava solo di coronavirus e covi e quindi io sto sempre bene a te ben attenta certamente a non assecondare l'onda delle notizie pompate e le scelte non dei mass media di parlare per un periodo solo di quello però siccome quello che io vi porto invece viene da vita vera mia e di persone che io assisto o che mi arrivano tramite il blog e mi scrivono o con cui facciamo seminari o visualizzazioni guidate ecco che io raccolgo dati da lì non certamente dalla tv io non ho la tv da 30 anni però sono una ricercatrice profonda del mondo di internet così come naturalmente del mondo dei libri e anche del mondo pratico dei seminari e degli scambi con le persone che si stanno muovendo in questi anni verso una propria crescita personale quindi quello che io vi condivido è un sunto di tutto questo del periodo in cui io vado a caccia no di ora a raccogliere se vi piace di più questi sacchi di esperienze dirette indirette racconti testimonianze confidenze e anche richieste di aiuto a volte o comunque lettere commenti eccetera eccetera per farne appunto un argomento da diretta perché sento che è un argomento caldo ed è un argomento sempre che io comunque ho attraversato con la mia pelle con il mio corpo la mia anima altrimenti non riesco proprio a parlarne infatti sicuramente mi mancano tanti temi che trattano persone più come posso dire più esperte no di quell'esperienza per esempio la maternità quindi a me piace questa cosa che ognuno condivida solo quello che ha realmente attraversato e non perché in quel periodo si dedica a quello perché ha letto e questo è un po il mio approccio quindi io sto prendendo tempo per aspettarvi perché non mi piace che poi ascoltiate discorsi già iniziati o a metà però poi la diretta si può naturalmente riprendere dall'inizio nella breve presentazione che vi ho fatto in questo posti facebook vi ho accennato appunto che oggi voglio parlare ma non della violenza di genere in sé del problema che c'è dietro la violenza di genere non dietro ma diciamo della parte letale che veramente non ci permette di affrontarla di risolverla nella maniera che questo mostro richiede e adesso vi spiego anche perché in secondo luogo ma molto brevemente accenerò ai vari gradi di consapevolezza dei maschi degli uomini in questo periodo intanto prima di partire ciao fatima ciao alessio prima di partire e vorrei farvi un promemoria degli eventi che ci aspettano che mi aspettano e che organizzerò per altri giusto molto brevemente non vi annoierò perché a volte scappa la notizia e mi viene detto ah se l'avessi saputo allora molto brevemente io in questo periodo di eremitaggio ho anche creato un nuovo seminario mentre porto avanti il seminario del patriarca interiore patriarca nascosto nelle donne in questo caso quindi per donne e quindi questa domenica nel veneto ma lì siamo già al completo lo riproporò nei prossimi mesi e cerco sale e persone anche che mi organizzino per creare dei gruppetti di donne e lavorare insieme su questo tema ho creato il secondo seminario che è sulle fiamme gemelle di cui ho dietro già tre libri mi baso sui tre libri sulla trilogia che ho scritto e le nuove scoperte degli ultimi anni e sono seminari esperienziali per cui passiamo dalla teoria alla pratica questo è aperto sia donne sia uomini e il prossimo il primo è il debutto che farò delle fiamme gemelle seminario le fiamme gemelle percorso di riconnessione riconnessione si chiama lo farò a sasso marconi in una iurta in un meraviglioso parco di marcello venturi chi è della zona lo conosce è un luogo magico per cui c'è ancora qualche posto lì se volete aggiungervi come vi dice 30 marzo sabato ok quindi il giorno prima di pasqua come vi dicevo questo è aperto sia donne sia uomini ciao chiara ciao martina ciao grazie e ma naturalmente io queste cose le condividerò già che siamo qui ve le dico ma allora marzo il 22 a ferrara organizzo per fabio guidopea di nuovo una giornata venerdì 22 marzo una giornata di allineamento spirituale guarigione spirituale filippina non sto approfondire perché l'ho fatto mille volte se no scrivetemi ma per chi lo sa vi annuncio che il 22 saremo a ferrara il 23 marzo sabato a padova e in entrambi i casi ho ancora un paio di posti non tantissimi ma proprio due o tre ok se vi interessa è la prima data con me e lui è questa qua 22 23 marzo non sto ad annunciarvi quelle di aprile maggio perché ci arriviamo molto importante un seminario che terranno fabio guidopea insieme a fabio mariani a bologna il 6 e 7 aprile di il riborthing si fa riborthing per due giorni e questa respirazione circolare che è in grado di fare rimergere nella persona dei ricordi delle memorie che ci stanno limitando nei nostri schemi di comportamento fissi limitanti nel nostro modo di reagire alle cose nel nostro modo di organizzare e di fare programmi progetti per cui oltre a liberare grande energia in corpo si può veramente passare a un grado superiore di autostima di amore per se stessi di capacità di gestione sia delle proprie emozioni sia della propria realizzazione quindi si farà al canto dell'albero un centro nel centro di bologna per chi è interessato due giorni di riborthing con due signori maestri perché non sono due persone qualsiasi io ci sarò io parteciperò fatevi vivi anche lì c'è ancora qualche posto ok 6 e 7 aprile a bologna basta fate le comunicazioni di servizio dopo ve ne dico un'altra ma se c'è tempo alla fine che riguarda la sardegna dopo passiamo direttamente ai temi di cui vi volevo parlare io ho fatto un post per me molto sentito un paio di giorni fa sui tabù che ci stiamo aggiungendo nel nostro modo di parlare per cui si è arrivati al punto che perfino dire uomo o donna definire un maschile o femminile è diventato è considerato maleducato è considerato troglodita retrogrado è considerato metteteci tutto adesso sessista prima si parlava di classismo prima ancora di rassismo o viceversa però tutte queste questi sono schemi mentali che se non siamo attenti ci stanno aggiungendo alla nostra libertà mentale ed espressiva e se noi cadiamo nella trappola avremo sempre più tabù anziché sempre meno sempre meno libertà di espressione e nella mia considerazione personale se mettiamo insieme tutti i divieti che abbiamo accumulato negli ultimi anni in italia io ritengo che ne abbiamo di più che nel medioevo per cui noi consideriamo il medioevo un'epoca oscura in cui non si poteva fare niente non è assolutamente così c'erano alcune cose che erano punite in maniera veramente violenta veramente per noi di oggi inconcepibile però qui si sta facendo di peggio ecco perché il problema è che se vogliamo andare a eliminare questi qua dice connessione lenta io spero che voi mi sentiate se no scrivetemelo eh se ci sono dei buchi nella connessione o poco poca rete o o l'audio che non va scrivete che qualcuno me lo scriva eh perché io parto da questo discorso oggi non voglio fare filosofia voglio andare molto sul pratico nella pratica quotidiana della nostra esperienza tra maschili e femminili ma quello che vi sto dicendo ha molto a che fare con la violenza di genere dove sta il nesso ciao lorena il nesso sta nel fatto che adesso non mi dilungo su chi è la gente chi è che ci vuole così chi è che ci c'è qualcuno che ci manipola o stiamo facendo tutto da soli non mi interessa in questa diretta parlare di questo però se la tendenza è quella lì state molto attenti perché è una tendenza a eliminare qualsiasi bordo qualsiasi confine tra un'entità e l'altra fra un concetto e l'altro fra un modo di essere e l'altro eh naturalmente quando si parla di generi si parla di generi e il principio maschile e il principio femminile sono alla base di tutto ciò che esiste perfino di un tavolo ok se andiamo a a studiare la fisica e tutto a come diceva l'antico induismo no tutto nasce da shiva e shakti quindi non sto parlando di preferenze sessuali sto proprio parlando di generi che quando siamo nati uno o è nato di qua o è nato di là poi può cambiare eccetera ma il discorso è che siamo permeati da principi diversi che sono quelli che portano avanti la biodiversità e la compenetrazione nelle relazioni a tutti i livelli quindi dal fisico l'emotivo psicologico energetico e spirituale il nesso che voglio sottolinearvi è che se noi andiamo ad abolire eh siamo andati poi nei decenni ad abolirne sempre di più di categorie ma oggi siamo arrivati alla psicosi per cui non può esistere più un contenitore neanche una parola a questo punto che categorizzi le parole categorizzano tutte perché altrimenti non potremmo comunicare andare a togliere tutti i confini di concetto eh che sono anche i confini di un modo di essere piuttosto che di un altro eh significa non avere più barriere e non perdere il proprio perimetro perdere la coscienza dell'individuazione dell'individualità cioè noi siamo qui per fare un'esperienza in un mondo duale in cui ognuno ha un'individuazione nel suo corpo nel suo modo di sentire secondo le sue memorie eccetera 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 il gioco sta nell'andare a sanare ciò che ci limita e ci fa malare o ci fa vivere nella sofferenza e nella separazione e questo è un altro discorso ma da lì a dire non esistono più confini io sei tu tu sei me lei è tutto uguale lei è lui e arrivo sentire gente che mi risponde non esistono più uomini e donne io non mi esprimo più così va bene io sono a questo punto retrograda davanti a loro si parla solo di individui o si parla solo di anime allora perché vi dico questo nel se noi andiamo a eliminare il confine del sé che è la dimensione in cui siamo tenuti a fare questa esperienza come anime incarnate ricordo e andiamo a permettere a chiunque di entrare e scorrazzare nel nostro regno vi parlo per metafora regno no parlo spesso delle del degli archetipi del re del guerriero l'energia del guerriero adesso vi leggerò quest'articolo per essere più chiara perché nella violenza di genere c'è questa cosa che veramente è molto interessante nello stesso tempo è abbastanza ghiacciante una tendenza femminile che è quella da andare veramente a sanare e a conoscere e approfondire in modo che la cosa non si verifichi più attraverso l'amore permettere di tutto e in questo caso noi diventiamo complici non siamo responsabili di un maschile violento che viene da un altro viaggio viene da un suo percorso per cui dovrà sgrezzarsi no dovrà raffinare magari un diamante grezzo che ci metterà altre dieci vite a raffinarsi per diventare appunto brillante e non graffiare più non ferire più quindi noi non possiamo entrare nell'ambito del percorso dell'altro questo no però abbiamo tutto il potere di porre dei limiti e io continuo a raccogliere testimonianze di donne mature adesso io purtroppo non ho a che fare con il mondo dei giovani lì dovete aiutarmi voi perché sarebbe fondamentale anche quello però ognuno arriva nel suo ambito questa cosa è successa a me sia in un caso di narcisismo tanti anni fa sia in un altro caso parliamo di violenza in generale per cui tanta anche violenza verbale e psicologica non per forza violenza fisica quando io parlo di violenza di genere l'intendo in questo senso però in entrambi i casi se noi fossimo persone centrate come donne formate in un modo sano alla prima occasione in cui l'altra persona sfora che può essere anche un parente non per forza un compagno un marito però in questo caso stiamo parlando di violenza del del maschile sul femminile naturalmente gli uomini possono fare tesoro della stessa cosa se hanno a che fare con una donna manipolatrice però io adesso parlo proprio della violenza maschile sul femminile perché è molto più diretta a parte che è più pericolosa a livello fisico perché da che mondo è mondo l'uomo ha più forza fisica della donna inutile che se qualcuno mi viene a dire di no per favore vi ridui faccia perché allora se neghiamo anche l'evidenza non partiamo neanche quindi non tratterò qui le manipolazioni la violenza sottile che è più tipica dell'acqua del femminile no che che fa percorsi di questo genere a me interessa quella più diretta perché in teoria è più facilmente smascherabile in pratica invece noi donne continuiamo a permettere di tutto raccontandoci un mucchio di frottole che poi le andiamo anche a cercare in rete pur di giustificarci quando invece vi ripeto questo la alla prima occasione in cui una persona si permette di quindi io non sto parlando di liti normali in cui una persona manifesta un proprio disagio si può entrare in conflitto perché uno vuole una cosa in un modo uno in un'altra quasi sempre uno la capita in un modo e l'altra in un'altra non è questo il discorso il discorso è andare oltre perché dobbiamo imparare soprattutto da donne adulte a distinguere fra una normale lite e quando invece qualcuno sta sta ferendo a spada tratta e in maniera molto plateale molto evidente a volte addirittura in pubblico ok quindi quando si parla di una umiliazione una mancanza di rispetto per la persona ma non sto parlando di un vaffanculo buttatolino sto parlando proprio di proiettili precisi che una persona sceglie per affossarti andando a toccare i tuoi punti deboli in modo da tirarti giù cosa che per esempio nel narcisismo è un classico quotidiano però parlo io parlo in generale anche di altre tendenze violente che non sono per forza provenienti da un narcisista patologico ma da una vita violenta da una vita che a cui sono mancati gli strumenti per accedere alla propria anima e farsi guidare eccetera eccetera e io continuo a raccogliere testimonianze di donne che dopo una due tre venti trenta anche cento occasioni del genere trovano tutti gli escamotage per giustificare per salvare e vi sembrerà che stia dicendo una cosa banale in realtà è estremamente profonda perché voi non avete un'idea oppure l'avete se vi è successo di ascoltare una persona in questo stato di quanti stratagemmi la mente femminile trova pur di trovare un ponte con quell'uomo che sta portando nel tuo regno la sua discarica allora io ve lo dico perché dal momento in cui c'è stata una mancanza di ma di rispetto ma pesante quindi basta una frase basta poco per capire che siamo nel regno dell'oltre siamo nel regno in cui quella persona sta facendo di tutto per distruggere la tua immagine o comunque lo 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 fa in auto ma quasi sempre inconsapevole io non sto dicendo che siano uomini cattivi è un processo automatico però noi donne abbiamo la responsabilità di lavorare i nostri sani confini altro che togliere definizioni e togliere barriere certo se sono barriere dell'ego vanno tolte ma se sono le barriere dell'anima che ti dice no oltre qui tu mi tiri giù e io sono un'anima incarnata che ha il dovere di andare su sono qui apposta per cui devo preservare il mio campo energetico questo è molto importante in questo campo e in questo caso lavorare ai sani confini e preservarli e ristrutturarli se sono vent'anni che non ci mettete mano perché tutto ciò che in una relazione o in un tira e molla segue quel momento quel momento in cui uno ha sforato cioè andato oltre lo scambio litigioso di una coppia che si ama ma ha proprio voluto o augurarti male per esempio che è una cosa che esula cioè noi dobbiamo capire quello che esula dalla lite di coppia da quello che è la normale lite di coppia in cui non c'è violenza non è possibile confonderle queste due cose cioè ormai con questa perdita di categorie di confini e di definizioni ci stiamo dimenticando veramente di preservare il nostro ecosistema di chi siamo ci stiamo dimenticando e confondiamo anche spesso qual è la nostra responsabilità e qual è quella dell'altro perché spesso noi donne ci sentiamo responsabili anche del percorso dell'altro sia nel salvarlo sia nel come posso dire cioè sia nel salvarlo nel futuro sia nel giustificare ciò che è già stato visto e vissuto nel passato allora io non so se questa tendenza è data dal nostro istinto materno che è più forte di noi ma è qualcosa di estremamente potente di estremamente profondo perché io purtroppo devo dire ho assistito anche a donne estremamente volute che lavorano su di sé da una vita che sono consapevoli che hanno degli strumenti sia mentali sia energetici per proteggersi che permettono a quello a quel tale individuo ancora di toccare certe corde a cui nessuno dovrebbe arrivare nessuno dovrebbe arrivare nel nostro spazio sacro in quel modo lì con un panzer un caterpillar che viene dentro e demolisce tutto e ogni volta la donna deve ricrearsi perché noi siamo l'araba fenice noi abbiamo questo potere rigenerativo come femmine è molto forte ecco praticamente miracoloso però ogni volta come un albero capito stato quanto tempo passa e quanta energia e lo so che sopravviviamo sempre praticamente ma è quello il nostro compito cioè quell'energia vitale sacra la stiamo impiegando bene o forse dovevamo preservare il nostro campo energetico da chiunque anche da chi dice di amarci e porta dentro di scariche perché il nostro compito in realtà è andare sempre più su ripeto preservarla questa energia e quindi quello che io intendevo dirvi è che da quel momento lì in cui una relazione va avanti nella come posso dire intestardendosi che quella cosa sarà sanabile ma in fondo cambierà ma in fondo forse ho capito male forse esagero io forse essendo io il femminile devo accogliere anche questo e poi anche quello e poi anche quello a parte che questa è la strada giusta per ammalarsi ma quello che volevo dirvi e mi preme sottolinearlo è che da quella prima ferita volontaria proprio scelta in cui c'è stata una violenza che sia anche di urla in faccia o di contenuto per non parlare poi di spinte calci pugni tutto il resto da quel momento lì la relazione è uno zombie che cammina noi possiamo farla durare ancora anni volendo però si è già passata la soglia dell'amore e si è in una terra di nessuno dove vivono leggi diverse sia in una zona grigia di cui pochissimi parlano figuratevi quasi parla solo di di quello che si tocca e si vede al giorno d'oggi figuriamoci quanti gradi energetici quante dimensioni l'essere umano oggi conosce e abita e questa zona grigia in cui io l'altro giorno parlandone con un'amica parlavo del dello scantinato cioè lì si è già sotto la cantina dalla cantina in su tutto è fattibile bisogna essere in due ognuno con le proprie debolezze però la differenza qual è tra dalla cantina in su e dalla cantina in giù la differenza è che da qui in su ci sono un maschile e un femminile che fanno sempre fatica a capirsi la comprensione totale non sarà mai possibile questo potete mettervi giù d'idea tra un uomo e una donna sarà possibile a gradi a seconda dei periodi e a ondate perché è un processo però qualunque cosa capiti tra i due c'è comunque una presa di responsabilità una presa in carico un po di qua un po di qua che si sia il settimo piano e si sia molto avanti e si sia a godersi la coppia sacra o che si sia il primo piano o lì a metà ma si sta lavorando per crescere c'è comunque che durante o soprattutto dopo uno scontro ognuno torna a se stesso al proprio centro su cui ha lavorato prima io vi ho già parlato dei vari stadi bisogna aver imparato prima star da soli aver vissuto un po di tutto aver vissuto la solitudine l'isolamento varie morti allora si può stare in una relazione sana aver fatto un lavoro di consapevolezza di qualunque grado e genere però qualunque cosa capiti ognuna delle due parti si prende carico di una parte delle sue proiezioni dice aspetta ok fin dove si può è questa qui è una roba mia in effetti non è roba sua aspetta un attimo questo è mio questo è suo parliamone insieme definiamo arriviamo un compromesso in tono tranquillo pacato pacifico e le due persone dopo non sono più sulle difensive possono diventare alleate collaborare per fare un passettino in più in tutto quello che è dalla cantina in su ogni lite è un dopo diventa uno strumento di crescita un tassello in più e anche di conoscenza reciproca e di se stessi per questo la relazione è uno strumento come nessuno secondo me a parte certi percorsi ascetici rari ma nella nostra cultura la relazione è lo strumento più potente per andare avanti nella nostra evoluzione come spiego in mille modi nel mio ultimo libro l'onda e la spada che è tutto sulla relazione quando invece noi continuiamo a intestardirci a portare avanti perché il sentimento c'è e questo è innegabile non sto mettendo in dubbio scusate che ho una chiamata almeno di una delle due persone se non di entrambi il sentimento spesso è anche reciproco c'è però se si vuole lavorare dalla cantina in giù non è che si vuole di solito non è consapevole però nel momento in cui almeno uno dei due e qui sto parlando di violenza diretta per cui urla in faccia pugni sui muri pugni sui tavoli o comunque anche semplici frasi che ti segnano in due che vanno a minare per esempio la tua attività la tua realizzazione la tua identità la tua professionalità i tuoi bisogni le tue esigenze che magari hai condiviso le tue fragilità e in un momento di stessa l'altro usa proprio quelle per affossarti lì non siamo in una lite normale ok adesso non sono io a dover dire a delle persone adulte che cos'è violenza che cos'è lite io spero che lo possiamo distinguere anche solo ascoltandoci ascoltando il nostro corpo perché la differenza credetemi è abissale non è sottile il problema è che non vogliamo vederla il problema è che soprattutto noi donne vogliamo confondere tutto quello che vi volevo dire prima è che la nostra società sta spingendo tanto per portarci questa confusione a non distinguere più ok e abbassare i confini abbassare abbassare perché così siamo tutti una pappetta in forme dove qualunque parassita può entrare non solo un uomo ma parassiti ben più pericolosi andiamo avanti questa volontà invece di procedere dalla cantina in giù a tutti i costi nonostante a voi donne parlo soprattutto nonostante quell'uomo ogni settimana ogni mese tiri fuori un'altra sciabolata in modo capace insomma di di distruggere tutto quello che tu credevi che stavi costruendo ripeto lì siamo in una zona grigia molto particolare per sondare quella zona grigia in cui la costruzione non funziona come sopra che si accumula si impilano le cose e diventi sempre più alto insieme all'altro lì la costruzione in qualche modo un po illusoria o è basata su proprio su delle dune che continuano a muoversi per cui tu credi di avere fatto un passo avanti ma la caduta la volta dopo che siano botte o violenze verbali è sempre più profonda per cui è una crescita al contrario è un involuzione involontaria inconsapevole in cui bisogna stare molto attenti lì poi vanno a finire anche le donne che vengono uccise ma prima ci sono tanti gradini e io mi occupo molto di più delle ferite psicologiche delle ferite emotive di chi rimane in vita e delle violenze sottili psicologiche verbali che tanto sottili non sono perché veramente sono sciabolate io non credo che le parole facciano tanto più male delle botte cioè facciano tanto meno male scusate delle botte io proprio non credo anzi però diciamo che entrambe sono forme di violenza usate in questo modo allora lì vi ripeto siamo in una zona grigia in cui le donne sono capaci anche per mesi o per anni di raccontarsi che se ne sta uscendo e la buca diventa sempre più profonda abbiamo pochi strumenti che ci accompagnino in questo perché se ne parla poco perché è una dimensione che non solo conosciamo poco ma io ritengo che le forze anticoscienza nella nostra società ci stiano proprio spingendo lì ma tutti non solo le donne cioè non inconsapevolezza omologante dove non possiamo neanche più dare nomi alle cose guardate caso non possiamo dare nomi alle cose perché altrimenti siamo giudicanti e così tutto è permesso e chiunque può scorassare fino a toccarci il cuore per non dire l'anima e a quel punto lì il nostro giardino diventa una discarica lentamente o siamo ufficie e noi crediamo che quella sia la nostra missione di vita perché siamo materna e perché siamo accoglienti siamo completamente nell'altra parte dello spettro energetico rispetto al limite massimo consentito ok quella che io chiamo la zona grigia qui qui sotto bisognerebbe entrare con una signora armatura che non è fatta di metallo cioè qui sotto possono entrare solo gli alchimisti capaci e gente molto preparata per affrontare quello che c'è qui sotto e forme energetiche inconsapevolezza a tutti i livelli per questo io vedo veramente poca capacità nel femminile di fermare i giochi anche ma contro il proprio cuore io questa cosa in realtà è sempre stata è sempre stata fraintesa il sentimento se c'è e io non lo nego che ci sia in questi casi un sentimento anche autentico e una buona volontà di crescita laddove non si sfori poi solo nel bisogno di fare la croce ossina perché lì bisogna veramente farsi aiutare però se un sentimento è vero e se si tratta di realmente di una forma d'amore questa può benissimo venire vissuta a distanza nel momento in cui la nostra incolumità fosse anche solo emotiva perché si dice solo perché uno non esci con l'occhio blu ma intanto dentro sei devastata allora il sentimento può essere preservato a vita tu non hai bisogno dell'altro per amarlo questo deve essere molto chiaro se parliamo di vero amore altrimenti è un bisogno allora si lavora su un attaccamento allora ci sono le figure preposte che possono aiutare psicoterapeuti e quant'altro però non l'amore non giustifica questo tipo di zerbinaggio anzi anzi allora fatti mo come mi son fatta più volte e tante persone l'hanno vissuta una bella esperienza di amore platonico dove tu mandi amore a distanza puoi anche aiutare quella persona lì sì che puoi aiutare perché lì rinunci alla personalità ti metti torni nel tuo regno torni a ristrutturare quello che è stato distrutto ma molto prima che arrivi tutta la discarica a uccidere la tua forza vitale appena veri che c'è stata una minaccia tu ristrutturi la tua staccionata metti dei bei fiori metti qualcosa di nuovo in modo da rafforzarlo ancora di più nella sua bellezza per te e per il bene di tutti perché noi abbiamo una responsabilità verso la nostra famiglia la nostra tribù di anime quindi la nostra comunità per quanto piccola o grande sia ok e allora la personalità viene a cadere tu ai primi segni non quando sei a rischio di vita o di esaurimento nervoso in maniera marziale dici chiunque venga dentro il mio regno e lo danneggi e viene a portare cattiveria rabbia forme di violenza vittimismo qualunque strumento che vada a fare buchi o a portare della dinamite questa roba tua stai fuori vai a fare i tuoi lavori o vai in un territorio in cui questo si è gradito che non è il tuo allora adesso vi leggo per non farla troppo lunga l'articolo sul guerriero interiore perché per me è molto importante ripristinare la parte marziale che non è violenta è tutto tranne che violenza quello che io insegno però se noi rinunciamo alla nostra individuazione a capire dove arriva quello che puoi fare essendo felice e dove finisce quello che puoi fare essendo felice perché dopo ti sporgi nel mondo dell'altro che se è un mondo inconsapevole sono cavoli e tu come donna hai questa presunzione l'abbiamo è perché io ci sono dentro se no non ne parlerei cioè io l'ho vissuta in più forma in più gradi per cui ne voglio parlare voglio anche insegnarle queste cose la presunzione di poter stare in piedi in tempeste dove noi per quanto il femminile sacro sia potente intanto bisogna saperlo gestire esercitare poche di noi lo incarnano ma per quanto sia potente tu sei un moscerino davanti un vulcano che ti sta eruttando contro per cui smettiamola di fare errori di valutazione basati su ingenuità e orgoglio ok perché ci so non è che ci sopravvalutiamo noi dobbiamo amarci di più e non sopravvalutare i nostri poteri magici di andare a sanare un maschile nel mondo che deve fare il suo percorso allora 08 scusate che devo riaprire qua ecco il guerriero interiore nella pratica e poi vi ripeto a quel punto si può fare veramente più bene che non in relazione se si tratta di una relazione tossica a distanza sì che puoi fare più bene sia a te sia all'altro se ti interessa veramente l'altro ok visto che tu sei la parte più consapevole lo devi fare tu e qui parlo a tutte le donne che sono in questa situazione e siccome mi sembra che sia un periodo in cui sia una cosa dilagante vi ripeto più che dieci anni fa e io lo so perché sono sempre lì che sono che ho a che fare con sia con molti uomini sia con le donne queste sono cose da diffondere adesso che ora sono l'ho già fatta lunga vi leggo il guerriero interiore applicato e che cosa significa l'archetipo di del guerriero che noi dobbiamo ricordare noi dobbiamo smetterla di dire no allora di violenza non si può parlare se no gli uomini si offendono di uomini donne non si può parlare perché oggi dobbiamo essere fluidi dobbiamo tu siamo individui tutti uguali noi non saremo mai tutti uguali grazie a dio perché altrimenti la proprio l'anima non potrebbe procedere in un mondo duale se questo mondo è duale è perché noi abbiamo scelto di fare questa esperienza e portare lo spirito nella materia duale ripeto e quindi il mio lavoro sarà sempre più pratico sempre più nel corpo ma in questo nel corpo vuole anche dire ascoltare bene le nostre antenne in quello che ci succede e non per amore a giustificare di tutto perché questo è anti amore è inutile che noi vogliamo confonderci con le parole o abolire parole in modo che così abbiamo tolto il problema perché la realtà sottostante è energetica e quella continua a pulsare e tu avrai sempre più problemi se vai sotto la cantina anche se vuoi rinnegare quella categoria quella semantica quelle parole intanto le energie continuano ad agire che stiano sopra ad elevarti o che stiano sotto a portarti sempre più giù per cui è ora per me di chiamare sempre di più le cose con il loro nome e non sempre di meno ecco quindi proviamo a farci caso voglio sentire il vostro parere su questo discorso della terminologia che non si può più usare e delle dei nuovi tabù dei nuovi tabù ecco un'altra cosa ve la dico molto in breve a me dispiace quando io parlo tantissimo del maschile sacro e io ripeto se io insegno alle donne queste cose e le voglio approfondire è proprio per preservare anche il maschile sacro perché il maschile sacro che tutto il lato costruttivo protettivo proattivo generoso abbondante e ricco del maschile che deve e sta emergendo sta riemergendo in questo mondo non venga schiacciato da quell'altro tipo di maschile oscuro inconsapevole che ci ha guidate fino guidati fino a oggi da un paio di millenni per cui dovete capire che è lo stesso lavoro è un è un circolo virtuoso ok in cui io lavoro una botta al cerchio una la botte un po sul femminile un po sul maschile se leggete l'onda e la spada prendo proprio entrambe le parti alternativamente e quando ci sono stati degli uomini miei lettori che si sono inalberati se io parlo di stereotipi ancora ben presenti contro il femminile nelle aziende nel parlare quotidiano nei commenti che fanno gli uomini al bar eccetera eccetera e non si devono inalberare cioè se ti inalberi hai la cosce hai la coda di paglia io mi aspetto invece io lo faccio apposta per vedere un maschile illuminato mobilitarsi e dire insieme andiamo a smantellarla quella roba lì perché io stesso che sono un uomo non mi riconosco in quella roba lì e se c'è ancora qualcuno che utilizza questi stereotipi o questo modo violento di svilire te donna di umiliarti o di degradarti io sono al tuo fianco perché quella cosa lì che ci ha schiacciati tutti non deve più esistere mi aspetto questo io dagli uomini non che si offendano se parliamo di violenza di genere che io vi assisto tutti i giorni ragazzi cioè non stiamo inventando niente e poi che esistano anche donne narcisiste eccetera sì però non è il mio campo non è il mio campo perché sinceramente continuo a venire assediata da donne che mi scrivono e che hanno compagni violenti allora iniziamo intanto a prendere le distanze alla prima o seconda volta ok la prima puoi dire mi sarò sbagliata ho capito male non è possibile che abbia detto questo ma la seconda fai karakiri fai karakiri vai contro il tuo cuore prima devi aver imparato a stare da sola a stare sulle tue gambe altrimenti lo farai dopo però dopo puoi solo agire nella nella punto nella dimensione grigia non non sei più in una relazione d'amore perché quel taglio è già stato effettuato quella bomba è già stata tirata per cui per quanto male ti faccia e tu volevi continuare a vedere quell'uomo nella luce che in cui tu l'avevi visto se fosse veramente in quella luce non avrebbe mai detto quella cosa ma perché non ce l'avrebbe dentro o non avrebbe mai alzato quella mano perché quella natura lì l'ha superata dieci vite fa spero di essere chiara ok ciao silvana lino ciao elena e ciao claudia e adesso passo alla lettura perché il guerriero interiore è no nella sua rappresentazione un archetipo maschile ma oggi come oggi fondamentale entrambi ma entrambi bisogna entrambi i generi bisogna che le donne riprendano in mano questo tipo di energia perché se no siamo corresponsabili uno non permette a quell'uomo di fare un suo percorso che magari ci sbatte il muso mille volte o si fa del male ma intanto non lo fate e poi comunque finché tu agisci una energia di mamma non aiuti nessuno sei fuori fase sei completamente fuori dalle energie di cui parlano le costellazioni familiari l'energia di mamma può essere agita solo su un figlio su una figlia quindi puoi comunque solo creare disequilibrio anche se l'intento era buono anche se il sentimento è vero e il sentimento lo devi usare a questo punto ad altri livelli così come l'energia sessuale allora il guerriero interiore applicato vediamo se mi giro in modo che mi vediate in faccia perché qui sotto ho l'altro computer avete domande c'è qualcosa di non chiaro c'è qualche bomba no più che altro pietra da tirarmi come succede ogni tanto io non aspettatevi da me io anzi devo dire sono grata e fiera ogni tanto di deludere i miei lettori perché da me non avrete mai una presa di posizione di convenienza cioè io non sarò mai quella che vi dice anche con gli altri familiari e non solo nella relazione di coppia oggi ho postato una cosa su questo nel bosco femmina se i tuoi familiari non fanno che tirati bombe tirati frasi che ti dilaniano e non avere rispetto di te come madre o come nonna per esempio oppure sfruttarti approfittarsi del tuo buon cuore eccetera 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 devi prendere delle misure precauzionali devi imparare a attraverso l'amore verso te stessa mettere a posto ognuno e se necessario decidere anche lì perché si è parlato tanto di speciazione che io chiamo speciazione coscienziale perché non è la speciazione biologica ok ma è quella delle coscienze che sta avvenendo in maniera plateale negli ultimi anni ma la speciazione ragazzi preparatevi se non vi è già successo ma sta riguardando anche le famiglie e l'abbiamo visto molto con la presa di posizione pro vax o contro vax o pro green pass e contro green pass le famiglie interesse si sono spaccate in due questa cosa sta procedendo adesso su altri temi ma sono le frequenze delle persone che stanno cambiando per cui a volte la tua famiglia di sangue non sarà più la tua famiglia ma acquisirai una famiglia animica con persone che magari non sono tue consanguine ma corrispondono le tue vibrazioni e realmente sono la tua famiglia perché lo sono dall'anima e non a livello biologico non solo c'è tanto c'è tanto su questo volevo farvi riflettere sul fatto che la speciazione sta attraversando ancora intere famiglie per cui siate pronti a tutto a volte quest'arte del samurai è da applicare non solo verso un compagno violento o verso una donna manipolatrice che ti spolpa l'anima a goccia a goccia ma anche verso familiari che non ti rispettano non ti rispecchiano in nessun modo sono sui tuoi valori sui tuoi principi sulla tua musica sulla musica che emani sulla luce che emani per cui prepariamoci a tutto però dietro va fatto un lavoro sulla propria forza interiore sulla propria centratura sulla propria pace interiore che è da salvaguardare a prescindere da qualunque altra cosa fossi anche una madre contro tua figlia se tua figlia viene a devastarti la vita ogni giorno a metterti in dubbio come madre come donna e come persona bisogna farci un pensierino anche lì ma quindi non aspettatevi da me mai una presa di posizione che sia di quieto vivere perché non fa parte della mia vita in questo io il guerriero ce l'ho molto attivo dentro di me a volte un po lento è perché sono parte di questa società che cerca di depotenziarlo cerca di spegnerlo però mi è molto chiaro oggi anche grazie all'esperienza di tante donne quanto è importante tenerlo attivo ripeto il guerriero è un archetipo che non è violento è quello che preserva i tuoi limiti e fa entrare solo quello che scegli e che è propositivo che porta a crescita anche se fosse difficile ma non porta veleno gratuitamente o la propria discarica perché qualcuno deve accettarla e tutti presti l'essere femminile non è questo non è questo e vado a leggervi questo articolo dunque in questo articolo parlerò solo del lato sano dell'archetipo del guerriero quello che nei tempi recenti della nostra cultura è stato rifiutato scartato allontanato insieme ai suoi lati insani e deviati premetto quindi che il guerriero non ha niente a che fare con la violenza sull'altro né verbale né fisica con il punire con l'infierire con l'urlare in uno stadio con l'insultarsi sui social non ha niente a che fare con l'alzare la voce con il sottomettere con l'umiliare con il deridere con lo svilire guerriero interiore non ha a che fare con i muscoli con la lamentela con il sentirsi più furbo degli altri non è tutto questo con il vedere nemici ovunque con il bisogno di un nemico su cui scagliarsi e simili per cui questo è quello che non è il guerriero reale il dono dell'archetipo del guerriero che dobbiamo incarnare tutti perché non ci vogliono così ce lo stanno disattivando state molto attenti a questa cosa è in realtà una quantità eccezionale di coraggio e di compostezza e un'alta qualità di vita in mezzo alle peggiori circostanze immaginabili il guerriero rimane calmo e razionale perché ha un suo centro e ci ha lavorato stranamente la qualità maschile dell'azione è incarnata nel guerriero il guerriero in noi ha un buon istinto ed è veloce nel rispondere o reagire ma non la reazione condizionata ma la reazione appunto di colui che è un maestro di arti marziali e sa benissimo in che misura reagire praticando la minore forza possibile in modo da preservare il nucleo questo nessuno ce lo può togliere se non ce lo lasciamo togliere quindi state molto attenti anche a queste operazioni che stanno facendo sul linguaggio quando nella tua vita hai attinto a una forza che non sapevi di avere si trattava dell'energia del guerriero che emerge come archetipo quel senso di invincibilità e determinazione che niente proprio niente può portarci via il guerriero utilizza la sua intuizione che ha molto sviluppato ed è grazie a essa che può prevenire le mosse dell'avversario per avversario intendo sia appunto persone che sono mine vaganti perché inconsapevolmente portano distruzione autodistruzione negatività eccetera sia demoni interiori come li chiamiamo che sono i nostri aggregati psichici che ci tengono in scacco perché non li abbiamo visti sciolti elaborati quindi non approfondirò adesso il tema dell'avversario c'è tanto da vedere su questo andatevi a vedere come si chiama beh sull'articolo adesso non mi ricordo ve lo ve lo posto qui sotto un documentario che volevo condividervi e di cui ho parlato anche di recente che sono due volte che me lo rivedo ma mi scordo sempre il nome ve lo metto qua sotto però nel mio articolo parlo più a fondo anche delle forme possibili dell'avversario vediamo ora a cosa ci servirebbe l'arcatipo del guerriero nella nostra vita di tutti i giorni e cosa abbiamo perso e cosa continueremo a perdere se non lo sviluppiamo leggendo i seguenti punti potrai renderti conto inoltre di cosa la carenza o l'assenza del guerriero stia causando nelle varie situazioni sociali e anche relazioni relazionali insomma nelle relazioni che attraversiamo allora il guerriero applicato è questo io queste cose vi consiglierei di attaccarle sul muro di farvi dei post it in macchina in casa quando vi svegliate la mattina perché nessuno le sta insegnando a meno che tu non faccia un corso serio di arti marziali con una persona illuminata che ti faccia capire che quelle cose vanno poi applicate tutti i giorni nella realtà quotidiana nelle tue relazioni allora critiche attacchi di panico il guerriero è quella parte di noi che sempre se viene integrata ed è sana ci permette di non crollare davanti a una critica e anche di distinguere tra le critiche costruttive e le varie forme invece di attacco gratuito umiliazione o tentativi di sviluppo quindi è il guerriero che ti permette di distinguere che cos'è lite e conflitto normale e cos'è violenza per riuscire in questo il tuo guerriero deve separarti dal senso di vergogna che ti è stato sicuramente inculcato da piccolo o da piccola la vergogna di essere inadeguata il guerriero è fondamentale in queste situazioni il guerriero non ti permetterà mai di autodenigrarti per esempio chi parla male di sé o qualche volta si arrabbia con se stesso e usa anche parole volgari verso di sé non ha un centro e comunque totalmente slegato dall'archetipo del guerriero in quel momento non sta utilizzando bene gli archetipi che dovrebbe incarnare e ti insegnerà a difenderti dal sentirti denigrato da qualcun altro poi secondo punto abbandoni e delusioni il guerriero dentro di te può evitarti di stare male perché ha dimostrato di non meritarlo può aiutarti soprattutto nel discernimento tra chi vuole il tuo bene e chi non è interessato oppure che dice di volere il tuo bene ma non è capace perché porta in giro forze distruttive senza rendersene conto il discorso che vi dicevo prima soprattutto rivolto alle donne non ci deve interessare se quella persona non capisce perché non può capirlo cioè è un punto cieco quando un uomo è violento quel punto lì un punto cieco è molto importante questo prendete coscienza di questa cosa molto spesso l'uomo rimuove rinnega dimentica e comunque non ha preso coscienza della gravità di ciò che ha detto o fatto ma noi non dobbiamo perderci l'anima in questa cosa è lì che sta l'archetipo del guerriero che ti riporta nel tuo regno ok questa persona sta girando per il mondo come una mina vagante a occhi chiusi io gli voglio bene ma non può capirmi non può non cioè donne svegliatevi non sa neanche di cosa parliamo ok e questa cosa la vedo in atto troppo spesso perché se queste cose non fossero inconsapevoli non esisterebbero cioè non nessuno è cattivo di natura e vuole distruggere anzi gran parte di questi uomini perfino chi è arrivato a uccidere è convinto che sia stato per amore anche per motivi religiosi come abbiamo visto spesso nell'islam no o in passato anche dentro la nostra religione quindi loro sono convinti che siano gesti d'amore hanno una visione completamente distorta della realtà sana perché sono punti ciechi questi questo non deve portare giù il femminile femminile lì si deve fermare perché deve capire che lì c'è un abisso che l'altra persona non ha nessuna colpa ma tu non sei tenuta ad andare nell'abisso per questo ok un altro punto in cui il guerriero può aiutare prendere decisioni per cui il guerriero l'archetipo che sollevando la sua spada come grande arcangelo san michele ci permette di lasciare indietro la strada vecchia per imboccare la nuova cioè la sua spada separa ciò che non ci permetterebbe di avanzare e questo naturalmente sempre e solo quando è strettamente necessario per cui rami secchi parenti relazioni tossiche amici fe inutili e tossiche che sono solo parassitarie per esempio e questo lo viviamo tutti prima o poi non sto dicendo niente di straordinario o di particolarmente patologico fa parte della natura poi un altro punto in cui il guerriero attivo in noi può aiutare e deve aiutare se noi ci colleghiamo ad esso è essere attivi e prendere il proprio posto nel mondo un attimo il guerriero ci serve ad occupare il nostro posto nel mondo e a smetterla di delegare di nasconderci di essere passivi o e questo è molto importante per le donne o di ingaggiare qualcun altro finché combatta o viva al posto nostro questo può avvenire con un collega di lavoro un compagno di squadra un familiare un esperto di qualcosa un politico un leader un maestro cioè quando noi restiamo nell'ombra anziché manifestare il nostro dono quindi il guerriero può aiutarci nella nostra manifestazione il guerriero interiore sembra un altro punto nel non abbattersi mai cioè il guerriero è quella parte di noi che ci permetterebbe di non arrivare mai al punto da perdere completamente il controllo su di noi e sulla nostra vita cioè non arrivare mai alla disperazione e quindi sotto la soglia permessa ma di mantenere sempre quel sano centro il buon senso e quella sana pazienza che uniti alla solidità della fiducia in sé e nella vita tipica del guerriero ci permetterebbero di sopravvivere nei periodi di avversità emotività un altro punto in cui il guerriero può aiutarci parte del potere di guarigione di questo archetipo sta nell'imparare a gestire le emozioni e a trovare loro uno sbocco salutare le norme sociali che ci chiedono di essere cortesi e gentili a tutti i costi sopprimono il guerriero interiore indipendentemente da quale sia il tuo genere questo reprimere la rabbia senza alcuna formazione su come canalizzarla provoca l'esplosione inaspettata di violenza che sta diventando fin troppo comune nel nostro mondo oppure la malattia un altro punto in cui il guerriero interiore può aiutare il controllo cioè il guerriero ci permetterebbe di evitare il conflitto pensate si pensa sempre al guerriero come guerra conflitto bombe no il guerriero interiore la parte di luce di questo maschile è questo evitare il conflitto fin dove lo scontro sia umanamente evitabile ok di contenerci quando non è il momento di fare fuoco di non dire quella cosa se essa fa più male che bene e qui per fare questo ci vuole una forza straordinaria e un esercizio una palestra quotidiana per cui di lavoro da fare ne abbiamo tutti e poi la disciplina il guerriero può darci la disciplina in qualunque percorso pratica lavoro progetto per cui questo è che tipo è molto importante per noi donne quando quando dobbiamo immediatamente durissima prendere atto che quell'altra persona chiunque essa sia ha sforato ha sforato si è caduti dall'amore in quel momento e quindi lì ci vuole grande discipline lucidità sono caratteristiche che ci dà il guerriero interiore nella pratica lucidità il guerriero ti insegna ad accettare la sconfitta senza sentirsi un fallito ad essere orgogliosa di te dopo una vittoria senza che tu ti senta però invincibile la pratica del guerriero ti manterrà nel mezzo cioè allineato ed equilibrato senza grossi picchi e senza illusioni né da una parte né dall'altra ciao donatella poi il guerriero interiore ti dà precisione e fermezza fate caso per tantissimi di questi punti oggi non se ne parla più si sta cercando di dimenticare alcuni valori che non sono valori morali ma sono fondamentali per la nostra sopravvivenza in relazioni sane sopravvivenza nel mondo con noi stessi e nelle relazioni il guerriero ci serve a donne e uomini per uscire dallo stato di pura emotività uscire dal mondo dell'ingenuità e imporci con lucidità quando una decisione drastica deve essere presa qui l'arte del karakiri no per il nostro bene perché se i lupi interiori ci stanno divorando la smettiamo di continuare a nutrirli e comprendiamo che a volte bisogna agire con il ferro anziché con il cuore applicare il cuore al 100 per cento questo ascoltatemi bene significherebbe anche non uccidere mai un virus perché esso possa vivere uccidere noi cioè la fermezza l'avere polso e i sani confini sono stati buttati nella spazzatura insieme alla violenza stiamo attenti a queste trappole non li distinguiamo più non distinguiamo più cos'è la violenza e cosa sono i sani confini che sono fondamentali per qualunque percorso di sanità mentale energetica fisica spirituale ed è così che rischiamo la vita sia psichica sia emotiva sia a volte fisica non possiamo vivere una vita sana ed evolutiva se non applichiamo nei momenti giusti qualche taglio fermo e preciso se non rendiamo chiari i nostri confini se non ci fidiamo del nostro guerriero interiore che non può permettere a chiunque di scorrazzare nel nostro regno fisico emotivo psichico energetico e spirituale il guerriero insegna a dire no a difendere la tua incolumità salute e benessere a portare i rami secchi ma non perché questi siano fatti eccezionali questo deve essere un insegnamento che deve essere introdotto nelle scuole perché questo è vivere cioè questo avverrà prima o poi a tutti e in più fasi no in più cicli così come le stagioni quindi a difendere il nostro corpo il nostro territorio da invasioni interni ed esterni da parassiti inconsapevoli da sciacalli da falsi da opportunisti e dalle persone mai cresciute e non è affar nostro poi quale sia il loro destino e la loro storia l'affar nostro è questo spazio qui e noi possiamo arrivare solo fin lì oppure può essere non un solo ma uno spazio molto nutrito molto grande molto florido però oltre non è territorio nostro e quindi lavorare anche su questa presunzione femminile poi l'altro punto è verità accettazione realismo il guerriero riesce a sostenere e a far proliferare e fiorire un re ok nel caso delle donne molto forte l'arcatipo della regina quindi dietro una regina sana solida che crea valore e abbondanza nella propria vita c'è una figura di un guerriero dentro di noi quindi un re nel caso degli uomini una regina nel caso delle donne dietro entrambi c'è un guerriero sano saldo solido se solo se il guerriero in noi ha ben chiaro che la vita non sarà mai tutta liscia che le cose non andranno mai completamente come desideriamo che presto o tardi sopraggiungeranno imprevisti o avversari che è anche il motivo stesso per cui il guerriero esiste ed è una figura fondamentale cioè non lavorarci non collaborare non parlare con il nostro guerriero interiore è come decidere di vivere senza voce per esempio è come proprio rinunciare a un organo quindi esso deve essere considerato onorato conosciuto sostenuto e integrato io quando lavoro sul patriarca interiore lavoro anche in parte su questa energia qua persone che non hanno inglobato questo tipo di realismo e la verità dei chiaroscuri della vita restano psichicamente bambini o adolescenti il mondo occidentale è pieno di questi casi e integrare il guerriero non significa vedere nemici ovunque dare sempre la colpa agli altri vivere in difesa non è questo integrare il guerriero semmai il contrario le persone che si comportano così rientrano nei casi in cui a cui accennavo prima i non svezzati non adulti e non è colpa nostra è venuta a mancare un'iniziazione per fare crescere queste persone in grado di trasformare un soldatino in un guerriero così il soldatino o è morto o è diventato una bambola di pezza e questi imperversano per il mondo è grazie alla consapevolezza di come stanno andando le cose che il guerriero può godersi la vita perché ha accettato la morte il guerriero può godersi il gioco solo perché ha accettato a monte le regole del gioco anziché nascondersi sotto la gonna di ma di mamma guerriero significa responsabilizzarci per tutto ciò che ci facciamo capitare a cui andiamo incontro ok quindi non ci interessi più giudicare l'altro cosa fa noi dobbiamo fermarci prima se no cadiamo veramente nel suo regno che a volte è una discarica a volte un posto di san patrizio energetico a volte è un inferno e perdiamo mesi o anni poi nell'esplorare quello ma noi non abbiamo altro da fare noi dobbiamo far fiorire il nostro regno e veniamo da una storia che magari è diversa non ci appartiene il percorso dell'altro aspettative il guerriero ci impedisce di aspettarci pietà da chi non ne può avere perché ne è incapace perché non ne ha verso di sé quindi ci impedisce di aspettarci correttezza da chi è scorretto e comprensione da chi non può darcela per cui inutile andare in quella direzione il guerriero lì e subito nel qui ed ora deve distinguere chi non è in grado di dare queste cose perché non le ha ancora prodotte per sé ok il guerriero ci impedisce di mendicare amore è l'archetipo che ci permette di uscire dall'ingenuità letteralmente e di entrare nell'abbraccio della chiarezza della dualità della completessa dell'integrazione e della tensione vitale onore il guerriero non ti farà mai fare il doppio gioco o agire con l'inganno il guerriero applica il fair play e ha rispetto del proprio avversario per un guerriero essere avversario non significa essere inferiore non percepisce il suo avversario come denigrabile indegno usabile o violabile l'avversario è la parte da combattere all'interno delle regole del gioco quindi sani confini non andiamo restituire bombe non denigriamo quindi onore rispetto e lealtà che sono anche qui tratti che a me non me ne frega niente della moralità non sono morali sono fondamentali per preservare la nostra energia onore rispetto e lealtà e noi ripeto abbiamo una responsabilità in questo senso verso tutti non è un lavoro solo individuale la nostra società cambierà grazie a questi lavori interiori l'avversario è il trampolino di lancio per la crescita personale e l'espansione se sei in un percorso di crescita se cadi fuori hai sbagliato qualcosa e puoi veramente morire puoi veramente morire di là il guerriero non spera a colpi bassi o alle spalle questo è ciò che nella vita pratica il guerriero ci impedirebbe di fare in qualunque situazione e non è affar tuo se l'altro non ce l'ha attivo e sfera a colpi bassi ripeto non è affar tuo tu devi solo lavorare ok quello qui dentro non entra inoltre il guerriero non attacca mai se non per mera necessità non spreca energie inutilmente non annaspa non ha nessuna intenzione di farsi grande su qualcun altro o per qualcun altro e non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno mi fermo qui perché l'articolo continua ma vorrei che andassi a vederlo voi dopo parlo della simbologia della spada che cosa separa la spada e quanto ci stiamo perdendo infangando questi archetipi vedendoli come distruttivi e guerra fondai questa è la parte d'ombra del maschile ma la parte che vi sto descrivendo la parte di luce del maschile in questo caso del guerriero poi cos'altro dico nell'articolo comunque ha trovato anche un video su questo su youtube che si chiama il guerriero interiore nella pratica bene io oggi ho sforato ciao lorena ho sforato l'ora mi dispiace avevo tante cose da dire però ritengo che siano molto importanti diffondete questo video alle donne che sono incappate in questa illusione perché siamo responsabili delle nostre scelte del nostro territorio di come trattiamo la nostra vita e il nostro cuore siamo pienamente responsabili di questo qualunque cosa facciano gli altri per cui non c'è forza che tenga che ci spinga da una parte o dall'altra qua serve conoscenza di base bisogna avere queste conoscenze dopo puoi testare i tuoi limiti puoi sperimentare però non giochiamo con il fuoco cioè non andiamo in territori dove scorrassano energie che ci annienterebbero in un non nulla cioè noi non possiamo pensare che questi siano giochini stiamo giocando veramente con delle forze cosmiche nelle relazioni ok grazie di tutto di esserci stati vediamo cosa dice martina io sento l'archetipo del guerriero in me attivo in luce ma dopo tanto lavoro interiore sì però ne vale la pena perché ti cambia completamente la vita e la qualità delle esperienze e delle relazioni e soprattutto secondo me questi sono i doveri sociali altro che le tasse queste sono che tasse che vanno a finire da altre parti questi sono i doveri sociali e lo sento molto forte io sento che se noi non facciamo questo lavoro poi siamo corresponsabili di un mondo che va a scatafascio cioè se noi non facciamo questi lavori dentro di noi e la violenza aumenta la stiamo aumentando noi nessuno di noi è come posso dire scevro no da questo dovere per me i doveri nella vita sono pochissimi lo sapete io faccio fatica a riconoscere le leggi umane maschili spesso non se non le sento nell'anima non le sento e non sono mie riconosco le leggi naturali da sempre e li applico veramente l'obbedienza e la sottomissione perché ne vale la pena mi prostro davanti a queste forze sacre questo è un altro caso questo è un altro caso veramente di una legge universale questo è un nostro dovere soprattutto in questa epoca non abbiamo più scuse per non farlo ok grazie di cuore di esserci stati e di condividere questa diretta con chiunque ne abbia bisogno sentitevi liberi di farmi tutte le domande che volete e quello che non vi ho detto qui o condiviso qui lo metto poi nei post sotto ciao lascio andare il video un minutino in più perché facebook me li taglia ciao